Quando è importante che la popolazione sia a conoscenza dei problemi del sonno? Sono sottovalutati? Allora è importantissimo che la popolazione sappia insomma che le patologie del sonno sono causa di pessima qualità della vita se non vengono trattate. È importante infatti rivolgersi quando la qualità del sonno non è più quella di una volta da un medico specialista e insomma valutare in fondo il problema. Quest'anno e qui ci riallacciamo alla giornata mondiale del sonno che è incentrata ogni anno a un tema, quest'anno il tema è quello del rispetto del ritmo circadiano, del nostro orologio biologico. Se questo orologio non viene rispettato in qualche modo si rompe un anello e questo anello rotto si traduce in una difficoltà a riuscire a svolgere le attività quotidiane, soprattutto una percezione di un sonno che non è ristoratore, quindi la mattina ci si sveglia già stanchi, cosa che non dovrebbe essere, la mattina ci dovrebbero svegliare riposati. Tutto questo se non si rispettano i nostri ritmi circadiani, se non si rispetta se stessi sufficientemente da poterci concedere una qualità e una quantità di sonno necessari, porta a conseguenze che nel lungo termine possono essere gravi e quindi a quel punto rivolgersi ad un centro che si occupa di medicina del sonno o comunque primariamente alla medicina di base per poi essere indirizzati sicuramente diventa fondamentale.